E' martedì, terza seduta di allenamento per i ragazzi della categoria giovanissimi e allievi. Terza seduta dopo le feste, le vacanze estive. Il gruppo degli allievi sono quelli con la casacca rossa, mentre quelli con la casacca bianca sono i giovanissimi e i nuovi arrivati. Lo riconoscete facilmente perché ancora non hanno la divisa. Ecco Michele. I mister, mister Giovanni, da questo lato e da quest'altro lato, con la t-shirt gialla, c'è mister Gabbiele. Eseguono gli esercizi con palla al piede. Si hanno di mestichezza con il pallone, controllo di palla. Ecco, bentornato Bartolo. La prima seduta per lui. Qua abbiamo il cucciolo, Nicolò. Il nostro Tenaglia, il nostro Johnny, tutti. Ancora non riconosco i nuovi arrivati, ci vuole un po' di tempo, però pian piano. Ok, mister, porta di qua, porta di qua. I rossi di qua e già i bianchi di qua. I bianchi di qua, lo spazio loro, i bianchi di qua. Ecco il nostro leve. Allora, per migliorare la vostra crescita, e non la mia del mister, perché io ormai ero fuori classe quando ero a Giorgio Interport. Infatti, come l'aceto, come voi, no? Che pensate di essere già arrivati. Quando facciamo questo esercizio, mister, io che ancora, quindi, c'è ancora qualche speranza di arrivare in Serie A. Io no. Vedete? Però quando facciamo questo esercizio, la tecnica è la cosa principale. Se vi facciamo fare questo esercizio, è perché ognuno di voi, Guido, non rompete il cazzo, poi che mi dici, mister, ma che cazzo le facciamo a fare questi anni pievoli? E poi mi tocchi la palla come un muratore, capito? Allora, la palla, tocchiamola bene, controlliamola bene. Pianta, piatto, controllo, piatto, sinistro, piatto, con personalità, ok? Non me lo fate vedere da cazzo di cane che poi mi si cale proprio di cuione, capito? A me mi piace. Facciamolo bene sto cazzo di esercizio, perché poi, in mezzo al campo, se lo sappiamo fare, il movimento, ci riesce di superare l'avversario. Se lo facciamo da cazzo di cane in mezzo al campo, così ci succede la domenica, ok? Quindi facciamolo bene. Pianti in questo spazio, Rossi in questo spazio. Appena pischiamo gli e-mister, aumentiamo il ritmo. Iniziamo. Iniziamo.